La nostra azienda Gemmo è presente da anni nel mondo del facility management e innovazione tecnologica. È un'azienda che è nata nel 19, pensate, sono la terza generazione. E una parte dei nostri tecnici e ingegneri è proprio dedicata alla valorizzazione dei beni culturali, architettonici, teatri, gallerie del nostro bel paese. È il patrimonio più grande che abbia l'Italia, attrae veramente milioni e milioni e ancora di più dovrà farne per il futuro. Per cui siamo orgogliosamente italiani e con la nostra tecnologia a braccetto con la cultura vogliamo portare una società più sostenibile e diffondere ancora di più il senso dell'arte e del bello che è insito nella nostra cultura. Grazie.